Questo lo puoi portare? Non lo metto, non lo metto, sono sporchi Yes, yes, ok Guarda, per mettere quello che ti piace la testa La parete di fila Questo, ma non so se si intende Usi uno di quei due pennelli, rimani sintomino uguale Ho le dita Vediamo? Sempre ti tengo La palpe tra moglie Cioè, vai qua sopra poi ti hanno amore No, 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 no Ah, la vera città dei campanelli Ma sì, città che mi fanno diamante È il Dio Ma cosa ti dice? Ma fa bella che sei uno Sparovski Oh mio Dio Quindi anche qui ti devo agitare Ok, vai Ah, guarda Il Dio Che fa? Quello Dio Vai, 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 vai Ok, ok Il Dio Bravo Te sbagli, che fa sotto? Il correttore No, il correttore non ho fatto Il correttore è quello che hai Non lo so Quanto spendete a te per tutta questa roba? Sono un trucatore No, no Eh, bisogna solo togliere la sua parte Dai No, intanto fai la prova No, più l'altro occhio Fai l'altro occhio In realtà i due tre 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 Ma guarda che ho pensato alla comunità Io sono sputtante Ti metti un po' giù, no? Ancora, ancora Mi sono baciata Questo è il lato più usato Qual è il lato più usato? Adesso Allora, per evitare questo occhio Un po' giù tutto Perfetto Ok Adesso La parte difficile del qua Ah, meno male Ok, dopo abbiamo messo Il primer Gli ombretti Secondo te Se vuoi, puoi provare a mettere questo Perfetto E la matita nera Vengo la matita nera Perché quella qui non esiste Sarebbe la rima interna La rima interna? Eh Ma c'hai che la rima interna? Eh La rima... La matita nera La matita nera Sbagliata Sbagliata lì Schiappa Ma bambatolio Già una matita Della c'è questo non ti puoi esimere l'aglio qua è un cielo di aglio di aglio? no, per favore ma, è un tipo di vernice questo è il colore basta è bella diciamo più di aglio sì sì questo è un altro tipo, le volte si prende aglio io immaginavo io immaginavo io immaginavo io immaginavo diffondiamo il mio parlare vabbè la parola è finita ma è una cosa importante non ti piace vai vai cosa hai disegnato? no ecco io quando disegno non sapete che faccio faccio due mondi una linea una linea una linea solo un 100 se ti fai la persona fa un 100 faccio un mio certo z z z z hai fatto no non ho mai saputo di segnare non ho capito hai fatto un mok ci hai sentato passando e te d'all'entronto e ti faccio un mok sono dove sei ingosto Oh mio Dio. Ok. Acqua di ventale. No, non lo devo mettere qua. E' io. Mi sei contato. Adesso è parisi. No, andavo più che non lavora per il vado. Adesso, da questo momento in poi ho una voce maritonale. Ma che ricorda? Oh, ti siamo fermo. No. Qual è il favore? Quello del missionario. Tu scrivi. Sto mangiando i potach. E lui ricorda. Corretta. Ci vediamo Ciberdiano. Cercate di aggiornarla. Guarda come ho scritto. Perché lui se l'ho preso da Amazon. E' il borrador. E' il borrador. E' il borrador. Mi sa che un uomo si può fare muscoloso col cappello. Magari anche vesti caro e fa. Ciao. Io so io. E' il borrador. E' proprio qui. Quindi. Quindi ci due assorazioni e le cose. Mi sa che dov'è fare un po'. Quindi, è il borrador. Il borrador. Donde si mette? No. E' chiaro che non vado a burrar. Non c'è il borrador. E le sopracciglia? No. 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 Perchè, insomma l'hai messo degli occhi Ok Sì Ma tu che hai già visto il polso? Poi tu hai già visto il polso C'è un polso C'è un polso Vabbè, mi sei volevo, aspetta vedo il polso Il polso? Il polso? Ma la cosa è vita? Ma non è come quello che sono di vecchie le dita? No No, non meno niente Allora, amare un' Pagno Ma non bene Allora Come si Il polso? 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 No Tu sei stato un polso di piette Troppo ancora di piette? Èents vediamo alla fine rossetto va bene a parte questo giochi aspetta, vediamo se riusciamo a un po' a mitigarlo vediamo meglio ok, guarda dovresti correggere che altro qua? se li ha corretto troppo se li ha già visto che cosa mi può sbavare addosso il ragazzo è bene è un po' delicato la musica la musica rende delicata amici si vede praticamente secondo voi l'ho truccato bene? guardatela è vicino è vicino non lo sappia le sopracciglie sono non è assurdo secondo il mestiere faccio il bagliere il make-upatore il make-upatore il make-upatore il bandieratore e poi faccio la barba va bene almeno mi abbiamo intrattenuto spero che vi siate divertiti a vedermi il fagiolo stupido con la mia amica vi saluto e vi devo mai ciao alla prossima propositiva la dico tu propositiva seguite la sua instagram rosmakeupbeauty yes ciao ciao buongiorgio mi trovate in un nuovo video chissà se si sente il bimbitatore allora non lo so non lo so vabbè poi tu tagli dandogli tu dopo di che tu che cosa devo fare e tu devi e tu faccio 200 euro vabbè la cesta ah per fare vedere possiamo fare così allora tipo di andare nella tua pagina facebook in modo tale da vedere cosa hai truccato per la sera e metto i bimbit in via ahhh è facile sembra facile però invece di questo io ti ho portato il cassetto ok allora quindi rifacciamo e facciamo tutto altre cose in questo momento eh sì tutte le cose in questo momento ah vabbè non si vede allora aspetta che questa è la protection si però l'attacca è 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